buongiorno a tutti segretario procediamo con l'appello buongiorno a tutti seduta della sesta commissione consigliere del comune di Palermo numero novecento quaranta del ventotto luglio del duemila e ventuno procedo con l'appello dei consiglieri Anello assente Cusumano presente buongiorno buongiorno Celarda assente Scarpinato assente Zacco presente presidente due consiglieri presenti su cinque il numero legale dichiara aperta la seduta buongiorno a tutti prima di procedere con il parere della delibera urgente che abbiamo affrontato in questi giorni diamo lettura dei verbali per l'approvazione prego il microfono a tutte le palazzone già parlavo da solo allora procediamo con la lettura del verbale numero novecentotrentotto del ventisei luglio allora il presidente Zacco all'ora dice quindi ci apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza del consigliere Cusumano e Scarpinato la registrazione della stessa e che è parte integrante del verbale sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link argomenti a trattare proposte deliberazionamente per oggetto regolamento per agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva e finitari 2021 a valere sul fondo per equatico regionale degli enti locali e a valere sul fondo statale di cui all'articolo 6 del decreto legge numero 73 del 2021 comunicazioni programmazione degli incontri varie ed eventuali letture approvazioni al verbale numero novecentotrentasette il ventitré sette 2021 il presidente Zacco dà la parola al consigliere Scarpinato il consigliere Scarpinato chiede chiedimenti sulla programmazione in quanto oggi la commissione avrebbe dovuto audire l'assessore persigiano come l'aco l'amap e la protezione civile per affrontare la problematica degli allegamenti in migliore regione siciliana il presidente Zacco ha precisa che la commissione ha ricevuto una richiesta di audizione da parte del titolare del barretto e dell'avvocato ma questa mattina hanno comunicato che proprio oggi hanno lo sfratto per cui non possono partecipare e chiede al segretario quando è stata riprogrammata l'audizione dell'assessore prestigiato il segretario risponde che è stato concordato per il 2 agosto giusto 2 agosto il presidente Zacco invita il segretario a leggere la proposta di liberazione posta al punto 1 il segretario procede con la lettura il presidente Zacco terminata la lettura non essendoci altri interventi chiede al segretario di legge del verbale numero 937 del 23 7 2021 si procede con la lettura e l'approvazione per l'appello nominale il verbale 931 del 23 7 2021 è approvato all'unanimità dei presenti relativamente alla lettura dell'approvazione del verbale della seduta odierna si procederà alla prima seduta utile alle ore 11 0 7 la seduta è chiusa detto approvate sottoscritto ok presidente prego intanto la presenza del consigliere scarpinato si un attimino che sistema un po' ok scarpinato un attimo che lo registro e quindi ok e quindi ok allora procediamo con l'approvazione del verbale che abbiamo letto per appello nominale ok procediamo con l'appello con l'appello nominale per l'approvazione del verbale numero 938 del 26 luglio anello non mi pare che ci sia no assente cusumano favorevole grazie gelarda ancora non c'è scarpinato favorevole favorevole zacco favorevole ok approvato all'unanimità dei presenti adesso procediamo con la lettura del verbale numero 939 del 27 luglio prego ok allora verbale numero 939 del 27 luglio 2021 il vicepresidente anello alle ore 10 e 15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri cusumano e scarpinato la registrazione è la stessa che parte integrante al verbale sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link argomenti a trattare proposta di deliberazione aventi per oggetto un regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizioni sospensive e finitari 2021 avvalere sul fondo pariequativo degli enti locali e avvalere sul fondo statale di cui è l'articolo 6 il decreto legge 73 del 2021 chi è entrato così lo registro no nessuno ok comunicazione programmazione incontri varie ed eventuali la commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione la dottoressa Maria Mandala il Presidente Anello del benvenuto alla dottoressa Mandala e comunica che la seduta registrata sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla registrazione la dottoressa Mandala dà il consenso il Presidente Zacco il Presidente Anello spiega i motivi dell'audizione e dà la parola alla dottoressa Mandala per una relazione sulla delibera la dottoressa Mandala precisa che è un atto che ripercorre la proposta di deliberazione proposta lo scorso anno che è stata posta in essere da una direttiva del sindaco così come quest'anno la delibera evidenzia le difficoltà di molti operatori economici derivati dalla chiusura a causa dell'emergenza Covid-19 sottolinea che la parte narrativa della delibera cita le leggi e le norme che prevede la modifica del regolamento e la possibilità di agevolare gli operatori economici le obbligazioni tributarie collegate a questo tipo di agevolazioni avverranno solo se quando i fondi verranno introidati dall'ente locale precisa che il criterio oggettivo per valutare chi è beneficiario è quello di fare riferimento al codice Ateco pertanto è stato modificato il regolamento tari che deve essere approvato entro luglio precisa che l'adozione di questo atto consentirebbe di bilanciare eventuali maggiori sborsi che dovrebbero essere previsti per le tariffe tari precisa che sono state diversificate le utenze domestiche da quelle non domestiche il Presidente Anello ringrazia per l'esposizione chiara da parte della dottoressa Mandala Consiglio Scarpinato ringrazia la dottoressa Mandala per la relazione precisa e puntuale fatta fa riferimento alla delibera relativa al perfettare del 2020 si sa che ancora tale atto non è pronto e non è stato approvato il Consiglio Comunale fa riferimento ad una riunione con la Capiclupo dove è stato sottolineato ciò dove è stato sottolineato ciò ci chiede la presenza del ragioniere generale in commissione anche perché la commissione è competente anche sulla programmazione argomenta sulla delibera perfettare che è di fondamentale importanza continua relazionale sulla delibera e la differenza tra la delibera approvata lo scorso anno sottolinea che sono stati utilizzati i codici ad ecco quali criteri di scelta delle aziende chiede se nello scorso anno la regione siciliana e il governo nazionale hanno messo in campo somme e se queste sono state utilizzate e sono stati sufficienti la dottoressa Mandala precisa che questa domanda deve essere fatta a ragione generale in quanto solo lui può rispondere precisa che lo scorso anno sono stati stanzati circa 5 milioni ma fino al dicembre dello scorso anno il comune di Palermo non ha introdurato nessuna somma pertanto è necessario chiedere a ragione regionale precisa inoltre che le somme stanziate dalla regione siciliana monterebbero a circa 21 milioni di euro il presidente ventanello ringrazio saluta la dottoressa mandala e chiede se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri consigliere scarpinato dove avere letto dagli organi di stampa che la giunta ha approvato una delibera di predis sesto è considerato che la commissione tra le proprie competenze alla programmazione chiede di invitare il ragione generale per venire a relazionare sullo stato dell'arte sul predis sesto dichiarato alla giunta il consigliere gelarda chiede di spostare l'audizione del 28 relativa agli abitanti di via versilia perché vogliono prima confrontarsi con l'assessore e si farà carico di incontrare l'assessore insieme agli abitanti di via versilia precisa che vi è un comparto che in questo momento è in sofferenza in quanto questo comparto non riesce a lavorare e fa riferimento al comparto delle onoranze pubbliche in quanto gli uffici comunali in questo momento non sono efficienti pertanto vuole concordare un incontro con le associazioni di categoria del comparto per capire le problematiche della categoria e farà sapere al segretario il riferimento all'associazione di categorie il presidente Anello è d'accordo e chiede al segretario di inserire in calendario l'audizione relativamente all'approvazione del verbale sia quello di ieri che della seduta odierna si procederà alla prima seduta utile all'ora 10.42 la seduta è chiusa a voi per l'approvazione approvazione per l'appello nominale ok approvazione del verbale numero 939 del 27 luglio Anello è ancora assente sì assente Cusumano favorevole grazie Gelarda non c'è assente Scarpinato favorevole ok Zacco favorevole ok approvato all'unanimità dei presenti allora un attimino che vado a prendere questo verbale ok taglia e lo metto a seguire buongiorno scusate ok allora presenti 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 ok che sono le 10 e 23 registrato consigliere Gelarda ok dicevo buongiorno sono qua buongiorno sì registrato presidente Zacco leggiamo l'oggetto della delibera e diamo parere prego sì allora l'oggetto della delibera è proposta di deliberazione avente per oggetto regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva e finitari 2021 avvalere sul fondo pereguativo regionali degli enti locali e avvalere sul fondo statale di cui all'articolo sede il decreto legge numero 73 del 2021 allora dobbiamo chiamare l'appello per il parere diamo parere per votazione per l'appello domenica ok delibera ok anello è assente accuso umano favorevole favorevole un attimino così io comincio elimina riga anello elimina riga un attimino così nel frattempo mi porta avanti con il verbale eh Cusumano ha detto favorevole eh Gelarda consigliere Gelarda consigliere Gelarda lo mettiamo assente consigliere vabbè vada avanti va scarpinato favorevole ok beh dottore Palazzolo non mi sentivate anch'io favorevole ok favorevole perfetto eh Zacco favorevole perfetto eh allora la commissione esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti eh è assente soltanto il vicepresidente anello diamo lettura al verbale di oggi per l'approvazione prego sì un attimino che eh presidente già le comunicazioni le avevate fatte perché io mi sono collegato un minutino dopo quindi non non so sull'ordine dei lavori come sta ho sentito allora metto le le cuffie scusi stavo dicendo niente siccome io mi sono collegato un minutino dopo volevo capire se già avevate fatto le comunicazioni solo per mere informazioni segretario può rispondere lei sì no comunicazioni in realtà non ne abbiamo fatte senta Zacco sentite sì si la sentiamo avevo chiesto presidente siccome mi ero collegato stranamente perché sono sempre puntuale ve lo sa un minutino dopo volevo capire se c'erano state le comunicazioni e no ho solo letto i verbali delle sedute precedenti e le posso chiedere le posso chiedere no 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 non voglio non voglio fare comunicazioni volevo solo chiederle se facciamo un attimino il punto della situazione rispetto agli impegni calendarizzati per la settimana dottore Palazzolo prego accendo il microfono e allora oggi dovevamo audire questo comitato di via Versilia ma è stata rinviata per domani io non ho programmato nessuno così come per venerdì 30 perché tra l'altro ho chiamato il ragioniere generale per venerdì ma il ragioniere mi ha chiesto di richiamarlo domani mattina perché in questo momento non riusciva a rispondere quindi io devo chiamare domani mattina il ragioniere generale per vedere quando è disponibile in ogni caso poi lunedì 2 abbiamo prestigiato come protezione civile e AMAP che è l'invito che abbiamo spostato dal 26 a oggi per allagamenti in regione siciliana e poi il 3 ancora non abbiamo programmato nulla il 4 abbiamo il vice sindaco per personale Presidente ho una richiesta da farle prego atteso che domani e dopo domani non abbiamo nulla anzi per meglio dire venerdì magari il ragioniere generale darà disponibilità sulla richiesta fatta proprio da me in merito alla delibera sul predissesto e sul riequilibrio che ha votato l'aggiunta io le chiedo se per lei va bene anche per gli altri componenti magari il ragioniere non riuscirà ad arrivare potremmo programmare un incontro con i revisori dei conti e subito dopo puoi farlo con il ragioniere qualora il ragioniere sia impegnato intanto il segretario potrebbe chiedere per venerdì la presenza dei revisori che ne pensa? mi avete sentito o ho difficoltà io con la linea? sentito io ho sentito ah perfetto perfetto sì sì anche io ho sentito grazie pensavo parlassi solo che ne pensate voi colleghi Giulio saltato l'ultimo pezzetto se può riprendere cortesimo stavo dicendo stavo dicendo siccome io ho chiesto di incontrare il ragioniere generale che ancora deve dare risposta ho chiesto di incontrarlo rispetto alla delibera di giunta sul prediscesso sul riequilibrio e quant'altro qualora il ragioniere non fosse disponibile anche perché deve dare risposta per venerdì io chiedevo al presidente e a tutti voi se vi era l'opportunità è sempre una mia richiesta di audire i revisori dei conti e poi subito dopo il ragioniere dico io spero ci siano tutti però è una mia richiesta e ne volevo parlare con voi con il presidente per capire quindi venerdì audiamo i revisori dei conti venerdì per i consiglieri va bene per me va bene consigliere Cusumano per me va bene ovviamente anche se il collega Scarpinato io domani farò delle comunicazioni quindi importante spero di averla domani in commissione perché oggi andrò di presenza in aula e poi domani vorrei affrontare un argomento in commissione con voi i colleghi e quindi per me è importante essere domani e che ci sia anche lei oggi va di presenza in aula consigliere Cusumano e sì oggi vado di presenza giulio giulio sarò presente grazie grazie va bene ci sono altri interventi altre comunicazioni no passiamo allora alla lettura del verbale prego dottore palazzo sempre il microfono se non lo attiva non lo so giusto è verbale numero 940 del 28 luglio 2021 alle ore 10 e 13 scusi il presidente Zacco alle ore 10 e 13 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Cusumano e Scarpinato no scusi Scarpinato non ha aperto con la presenza del consigliere Scarpinato la registrazione della stessa che parte integrante del verbale sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link argomenti da trattare proposti di deliberazione a mente per oggetto regolamento per regolazione straordinaria soggetta a condizione sospensiva e finitale 2021 avvalere sul fondo per i quotidi regionali degli enti locali e avvalere sul fondo statale di cui all'articolo 6 il decreto legge numero 73 del 2001 comunicazioni programmazioni incontri varie ed eventuali letture e approvazione del verbale della seduta numero 938 del 26 7 2021 letture e approvazione del verbale della seduta del numero 939 del 27 7 2021 letture e approvazione del verbale della seduta odierna presidente Zacco chiede al segretario di legge il verbale numero 938 del 26 7 2021 si procede con la lettura e con l'approvazione per appello nominale il verbale numero 938 del 26 7 2021 è approvato all'anonimità dei presenti presidente Zacco chiede al segretario di legge il verbale della seduta numero 939 del 27 7 2021 si procede con la lettura e con l'approvazione per appello nominale il verbale numero 939 del 27 7 2021 è approvato all'anonimità la commissione procede con il parere della delibera di cui al punto 1 sono presenti Zacco il presidente Zacco il consigliere Cusumano il consigliere Gelarda il consigliere Scarpinato la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti con la seguente votazione Zacco favorevole Cusumano favorevole Gelarda favorevole Scarpinato favorevole il presidente Zacco chiede ai consiglieri se devono fare le comunicazioni il consigliere Scarpinato chiede qualora il ragionario generale non sia disponibile per venerdì se può essere programmato un incontro con il revisore dei conti per trattare la delibera di giunta relativa al predissesto e in un secondo momento audire il ragionario generale il presidente Zacco d'accordo anche i consiglieri Gelarda e Cusumano sono d'accordo il consigliere Cusumano comunica che domani farà una dichiarazione per cui spera che ci siano presenti tutti i consiglieri il presidente Zacco chiede al segretario di legge il verbale della seduta odierna si procede con la lettura e con l'approvazione per appello nominale presidente procediamo sì grazie ok approvazione del verbale della seduta odierna Anello è sempre assente Cusumano favorevole grazie Gelarda favorevole grazie Scarpinato consigliere Scarpinato favorevole favorevole eccomi Zacco favorevole grazie approvato all'unanimità dei presenti sono le ore 10 e 35 la seduta è chiusa buongiorno a tutti grazie buongiorno a tutti arrivederci buongiorno buongiorno Giulio grazie